La cornucopia è nata da pochi mesi e ha come obiettivo quello di raccogliere qui nella nostra zona del territorio di Sobbiano tutti coloro che hanno comunque una forma d'arte da manifestare e importare anche da fuori forme d'arte a 360 gradi. Quindi noi spaziamo dalla fotografia alla musica alla storia alla pittura e creiamo degli eventi che di volta in volta si succedono e in questa maniera da una parte si coinvolge la popolazione sotto un aspetto puramente culturale ma nel senso non della cultura polverosa e antipatica ma una cultura vivace e vissuta soprattutto. E dall'altra parte cerchiamo anche di fare in modo che tutti i giovani, tutti coloro che comunque vogliano esprimersi e vogliono far vedere al resto della popolazione le loro espressioni d'arte lo possano fare. Quindi noi diamo un appoggio proprio per questo. Abbiamo creato una serie di eventi che hanno tutti ricevuto un grosso successo. Facciamo soprattutto delle camminate che noi chiamiamo culturali però in realtà sono delle vere e proprie camminate serali. Facciamo ogni secondo martedì del mese e questo per tutto l'anno e facciamo dei percorsi che variano di volta in volta all'interno del nostro paese dove ci soffermiamo però laddove ci sia un aspetto storico o di rilevanza da far conoscere agli altri cittadini.